Produciamo interamente a mano in Italia, quindi linee di abbigliamento, cappottini, abitini, maglieria e poi una serie di accessori molto selezionati come borse, trasportini, una linea di cucce, anche di lettini, molto elegante e sofisticata. Noi veniamo da un paese dove c'è una manualità, una ricercatezza e un gusto per la statorialità che ci invidiano a caso tutto il mondo e noi in particolare di Enamorada abbiamo pensato proprio di sfruttare tutto questo plus dato proprio dal Made in Italy, dal fatto a mano, dal lavoro artigianale e convogliarlo in un settore che è la nostra più grande passione che sono appunto tutto il mondo che va intorno al mondo dei cani in particolare. C'è una storia dietro a questa nostra scelta, c'è una storia dietro il nome del nostro marchio Enamorada perché Enamorada nasce dall'amore di una dolcissima e antipaticissima bulldog francese che è la mia, Enamorada. Io ho iniziato dal desiderio di creare qualcosa di speciale per lei e da lì è nato tutto questo bellissimo progetto che oggi a distanza di due anni dalla fondazione del marchio ci porta a vendere in tutto il mondo. Quindi noi abbiamo clienti negli Stati Uniti, Cina, Giappone, Sud America, Europa e ovviamente anche una selezionata cerchia di punti vendita in Italia. La collezione mia nasce dalla mia ispirazione diciamo, a me io amo scegliere i materiali, gli accessori, cerco sempre di scegliere il meglio perché cerco di dare al mio cane in particolare e ovviamente a tutti i cagnolini che noi vestiamo il meglio e questo sia a livello di naturalmente di comfort, di benessere perché poi quello è fondamentale. Poi naturalmente noi nasciamo come produttori di cappottini, da lì nasce proprio tutta l'ispirazione e poi naturalmente abbiamo esteso la nostra gamma per rispondere alle diverse esigenze del mercato. Da qui nascono anche alcuni capi molto particolari come i capi della linea da cerimonia che sono ovviamente dei capi che vengono prodotti su richiesta, su misura e che ovviamente sono dei capi molto particolari, diversi sicuramente. Il nostro cliente di elezione è il cliente che vuole dare al proprio cane qualcosa di diverso, di molto elegante, molto sofisticato ma fondamentalmente di diverso rispetto a tutto il resto che c'è sul mercato. Quindi noi cerchiamo di fare un prodotto dove quello che parla, quello che fa la differenza è proprio la qualità sia dei materiali ma anche della sartorialità con cui sono prodotti. Noi poi abbiamo anche un controllo qualità severissimo e quindi non esce nulla dai nostri uffici, dai nostri showroom che non sia più che perfetto da ogni punto di vista con un'attenzione proprio meticolosa e quasi maniacale per ogni singolo dettaglio. Perché noi vestiamo molto ovviamente i cagnolini di piccola taglia perché ovviamente sono quelli che si prestano maggiormente a indossare anche cose un po' più sfiziose però vestiamo anche tantissimo cani che richiedono una vestibilità particolare per cui i bassotti, i bulldog, i boxer, cani con grandi taglie, i levrieri tutti quelli che hanno anche vestibilità come dicevo particolari per cui richiedono poi uno sviluppo taglie che è completamente diverso rispetto allo standard proprio perché noi lavorando a livello sartoriale possiamo fare praticamente tutto. Ci trovano online naturalmente, noi abbiamo un sito dove è possibile avere informazioni che è l'innamorada.com Ovviamente ci trovano nelle migliori vetrine in Italia e all'estero e ci troveranno presto anche su un negozio virtuale dove sarà possibile vedere tutte le nostre novità.